Nella tarda mattinata del 9 settembre la squadra anticrimine del commissariato di Viareggio ha effettuato un controllo presso uno stabile abbandonato al Lido di Camaiore in via Viani. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno visto uscire ZA, ventenne marocchino, il quale, accortosi della presenza degli operatori, è rientrato frettolosamente dentro lo stabile. Immediatamente l'incorso è stato fermato dalle agenti in una stanza adibita a camera da letto dopo che era stato visto gettare qualcosa dietro un armadietto, due dosi di cocaina. Durante la perquisizione dell'immobile in una stanza attigua gli agenti hanno individuato NR, 19enne marocchino, sul cui comodino erano 38 dosi di cocaina per un peso totale di 24 grammi. Inoltre, nella tarda serata del 10, la squadra volanti del commissariato ha proceduto all'arresto di NM, 28enne marocchino, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo passeggia era a bordo di una Fiat punto dopo che gli agenti avevano intimato l'alt nei pressi di largo risorgimento, ha tentato di fuggire a piedi per essere poi bloccato all'altezza di via Ciabattini. Il conducente dell'auto invece è riuscito a far perdere le proprie tracce. A seguito della perquisizione del veicolo sono stati rinvenuti 315 grammi di cocaina e la somma di 640 euro suddivise in vario taglio, nonché due telefoni cellulari.